Le soluzioni per l'edilizia scolastica sono in materia di ripristino e rinforzo strutturale di grande attualità. Circa il 45% del patrimonio di edilizio scolastico ha bisogno di essere sistemato dal punto di vista statico e le nostre soluzioni con materiali compositi per rinforzo strutturale sono decisamente di grande interesse. Abbiamo la possibilità di intervenire su strutture in calcestruzzo e muratura con delle fibre di carbonio o meglio ancora con delle fibre di PBO che posate con una matrice inorganica consentono di avere grandi prestazioni dal punto di vista statico rispettando però la compatibilità con i supporti, penso soprattutto al caso della muratura, garantendo facilità di posa, risolvendo i problemi di fuoco che i rinforzi tradizionali con resine possidi hanno e dando grande possibilità e grande libertà sia allo strutturista che all'architetto di intervenire mettendo in sicurezza le scuole utilizzando tecnologie moderne di facile applicazione per l'impresa.